Pronto? Richard? Sì? Ciao, sono Giuseppe Cruciani dalla Zanzara, come stai? Bene, non tanto bene. Ho visto, come te la passi? Mi spiace. Non tanto bene purtroppo. Senti Richard, ma com'è che hai voluto fare questo appello? Davvero sei rimasto senza un euro? Sì. Ma proprio zero totale? Zero totale. Cioè zero proprio? In banca quanto hai? Niente. I debiti no? Debiti nessuno. Debiti nessuno, però proprio non riesci ad arrivare a fine mese. Come campi? Come magni? Mia moglie mi cucina la pasta fatta in casa. Dunque questo appello per chi è? Ho sentito che tua moglie chiede aiuto a Berlusconi addirittura. Sì. Come mai proprio a Berlusconi? Perché sono molto amico del figlio Pier Silvio. Ah, di Pier Silvio? Molto bene, molto bene. E tu dici che ti può dare una mano a Berlusconi? Sicuramente. Ma che vorresti da Berlusconi? No, no, mi dà anche un programma televisivo con Barbara D'Urso. Ma quando? Dura un'ora e mezza mi pare. Ah, domenica dici, domenica live. Sì. Ti invita lì e intanto ti dà qualche euro di rimborso, diciamo, no? No, mi dà un sacco di soldi. E quanto ti dà? Non lo so di preciso. Ma avete già fatto l'accordo o no? A parole. A parole. Andrai lì dalla D'Urso e poi ti daranno dei soldi, diciamo, no? Certo. Ma dice che vuoi anche una casa, ha detto tua moglie, ho letto da qualche parte. Sì, abbiamo bisogno di una casa. Ma scusa, tu una volta non eri, cioè tutti i soldi che hai guadagnato. Quanti ne hai guadagnati in tutta la tua carriera? Ma che ne so, tantissimi. E che hai fatto? Dove hai buttati? Eh, se spendono i soldi, vanno via come il vento. E come se spendono, Richard? Eh, sono passati così tanti anni, che ne so, ma come ricordo io. I soldi se ne vanno via come il vento, ti ho detto. Ah, ho capito, ho capito. Concepi lei che non mi vuoi ascoltare? No, ti sto scompendo. Esatto, hai ragione, non capisci niente proprio. Non capisci nulla, Cruciari. Scusa, Riccardo, scusa. No, Richard, scusami, eh, Richard, ma come mai che sei finito così male, diciamo, dal punto di vista anche fisico? Ti ho visto stravolto, distrutto. Eh, mi sono ammalato di cuore, non riesco neanche a respirare. Ah, e i denti? E i denti che ho visto? E i denti me l'hanno, mi hanno buttato una lattina contro i denti, il pubblico. Sì. E ci sono tutti distrutti. Dunque, tu diciamo, nell'ordine di che cosa sei malato, perché ti ho visto veramente male in quel filmato, sei malato di cuore, di che cosa sei malato? Sono malato di cuore. Di cuore, c'è i problemi? Non riesco a respirare. Ah, proprio, grandi difficoltà di respirare. E come fai a fare programma in televisione? Sei ospite, diciamo, vai ospite. Sì, ma riesco anche a fare i concerti, eh. Anzi, spero di morire sul palco. Addirittura? Beh, speriamo di non morire più. No, però questa qua è una cosa che molte persone, è interessante questa cosa. Cioè, tu, la cosa che speri in realtà è crepare sul palco, diciamola tutta. Sì, la chitarra la suono ancora in maniera velocissima. Ma da quanto tempo è che mi fai in concerto, però? No, l'ho fatto recentemente. Senti una cosa, ma io voglio capire una cosa, ma ancora ce l'hai la voce? Cioè, la voce, facci sentire un po' la voce, tirati un po' su, facci sentire un po' la voce forte di Richard Beckett. Fermo! Ma che è successo? Fermo! Ma che è successo? Scusami, amico mio, ma tu sei un leone, stai. Ma non c'hai problemi cardiocircolatori, scusa Richard. Sì. Ho capito, però riesci a hai fatto un boato e poi dici sì, tranquillamente. Hai fatto un boato pazzesco. Si sono spaccate qua, mi sta chiamando Radio 24, la Confindustria, si sono spaccati i vetri della Confindustria qui. Sei spettacolare, ancora c'hai una forza pazzesca, dirlo a tutti, c'ho una forza incredibile dentro di me, incredibile, altro che... Io t'ho visto malissimo in quel filmato, mi confermi che sei un leone in realtà, o no? Il fatto è questo. Sì, dimmi. Il fatto è questo, sentiamo, va bene. Che praticamente c'ho la forza di un leone. Eh, appunto. Eh, questo si capisce. Però sono malato di cuore. Eh, non so, però, mico mio, ti fanno male pure queste urla, no? No, invece... Ma che si urla così, ragazzi? Ma è incredibile. Ma dice che le cure costano troppo, no? Cioè... Sì, le cure non riesco a affrontarle proprio. Quali cure? Cioè, di che cure hai bisogno? Di che medicina hai bisogno? Eh, la lista delle medicine. La lista? La lista è solo, eh? Sì, più alla lista, sì. Boh. Francamente. Aspetta, vediamo la lista. Uno che fa un urlo così. No, però. Sì, ho capito, però, ragazzi. Ma è incredibile. Comunque. Sta male. Boh. Beh, non ci credere. No, lui non ci crede. No, per carità. Io ci credo, io ci credo, io ci credo. Sì, ma uno che fa un urlo così, secondo me... È bellissimo. Senti un po', ma ho visto che fu, ho visto che fu, mi riesci, il medico ti dice che puoi fumare? Io fumo quanto mi pare. Faccio quello che mi pare. Io mi ritengo un uomo completamente libero. Non me ne frega un cazzo di quello che dicono i medici. Bravo, bravo, bravo. Dunque, tu, quante sigarette fumo? Conquerti, faccio la lista delle medicine adesso. Fammi la lista, sì. Fammi la lista. Allora, al d'actone. Sì. Cardioaspirina. Sì. Lassix. Sì. L'Oppressor. Sì. Panproc. Sì. Tavor. Sì. Zestril. Sì. Alson. Sì. Quanto è tutto il conto totale? Eh, non lo so. Non lo sai, più o meno? Più o meno. Non lo so. Di quanto avresti bisogno al mese per campare bene, diciamo, per stare decentemente? Cioè, così facciamo un po' il conto, chi ci ascolta magari può dare una mano. Direi 3.000 euro, al mese, sì. 3.000 euro andrebbero bene, diciamo, no? Sì. 3.000 euro andrebbero bene. Senti una cosa, ma quante sigarette fumo al giorno? E che te frega? Ma così, ma... Che te frega di quante sigarette fumo al giorno? No, t'ho visto con le mani che erano molto piene di nicotino, dunque sicuramente sarà un pacchetto, un pacchetto e mezzo, due addirittura. Ma giustamente, a te non te frega un cazzo, vuoi morì sul palco? Che te frega di fumà? Hai detto che vuoi morì sul palco? Comunque, l'appello l'abbiamo fatto, l'appello l'abbiamo fatto, 3.000 euro al mese, io spero che... Ma che appello è, ragazzi? Ma a che punto di fare l'appello di radio per dare dei soldi? Ma sta messo male, hai visto? Dice che non arriva... Scusa, in questo momento qua, tu, in questo momento qua, in banca, nella tua conto corrente, a meno che non c'è... Io in banca non ho niente, ti ho detto. E tua moglie? Non fa la rabbiare. E mia moglie non c'è un cazzo! Manco lei, manco lei. Passamela un secondo, Richard, scusami. E devo passare pure mia moglie, eh? Passami un attimo, Esther, un attimo, sì. Pronto? Ciao, Esther, scusami. Ciao, 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 ciao. Com'è la situazione, allora? Tu in banca, quanto avete voi? Allora, in banca abbiamo, penso, 7-8 euro. Eravamo delle persone molto benestanti, stavamo molto bene economicamente. Dove sono finiti tutti questi soldi? Lui ha detto, sì, vabbè, la vita costa, però è un sacco di soldi che avete buttato via, allora. Ma non è che li abbiamo buttati via, è che abbiamo fatto degli investimenti sbagliati, abbiamo comprato delle cose che non dovevamo comprare, tipo vestiti o troppe chitarre. Quanti soldi avete buttato via? Sì, ma no, ma no, non erano tanti soldi, non erano tanti. Non erano tanti, eh? No, non erano tanti. Non erano tanti, non è che stiamo parlando di cifre iperboliche. Vabbè, un milione, diciamo. No, assolutamente. Meno, meno. Molto di meno, molto di meno, molto di meno. Vabbè, passamelo, va per un saluto finale. Ciao, amica mia, ciao. Ripassamelo un attimo, un attimo, così lo saluto. Che situazione, ragazzi. Sì, dimmi. Caro Richard, grazie di tutto, eh. Io spero che tutto si sistemi, tutto vada a posto, tutto regolare. Io vorrei salutarti perché io so che tu sei vivo, vivo, vivo. Salutami a modo tuo, col tuo classico urlo alla Richard Benson. Vai, Richard! Cosa? Basta! Ma sta male! Mamma mia! Mamma mia! Ma siete pazzi, ragazzi? È vivo, è vivo! Ma tu non sono in ormai! Ma sei un'amica normale! Sono vivo! Quante sigarette fumi, dimmelo! Quante? 50. Ma sta un'amica normale, però, ragazzi. Tre pacchette al giorno. Sì, però, ragazzi miei, fidati di me. Ti saluto, ti saluto. Ma non basta fare sti urli! Basta fare sti urli! Ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao, ciao! Mi da un sacco di soldi. E quanto ti da? Non lo so di preciso. Ma avete già fatto l'accordo o no? A parole. A parole. Andrai lì dalla D'Urso e poi ti daranno dei soldi, diciamo, no? Certo, certo. Ma dice che vuoi anche una casa, ha detto tua moglie, ho letto da qualche parte. Sì, abbiamo bisogno di una casa. Ma scusa, tu una volta non eri... Cioè, tutti i soldi che hai guadagnato, quanti ne hai guadagnati in tutta la tua carriera? Ma che ne so, tantissimi. E che hai fatto? Dove hai buttati? Eh, se spendono i soldi, vanno via come il vento. E come se spendono, Richard? Eh, sono passati così tanti anni, che ne so. Ma come ricordo io. I soldi se ne vanno via come il vento, ti ho detto. Ah, ho capito, ho capito. Non si è dire che non mi vuoi ascoltare? No, ti sto scopendo. Esatto, hai ragione, non capisci niente proprio. Non capisci nulla, Cruciari. Scusa, Riccardo, scusa. Scusami, Richard, ma come mai che sei finito così male, diciamo, dal punto di vista anche fisico, ti ho visto stravolto, distrutto? Eh, mi sono ammalato di cuore, non riesco neanche a respirare. Ah, e i denti? E i denti che ho visto? E i denti me l'hanno... Mi hanno buttato una lattina contro i denti, il pubblico. Sì? E ci sono tutti distrutti. Dunque, tu diciamo... Pronto? Richard? Sì? Ciao, sono Giuseppe Cruciani, dalla Zanzara. Come stai? Bene. Come te la... E ho visto? Non tanto bene. Ho visto, come te la passi? Mi spiace. Eh, non tanto bene, purtroppo. Senti, Richard, ma com'è che hai voluto fare questo appello? Davvero sei rimasto senza un euro? Sì. Ma proprio zero totale? Zero totale. Cioè, zero proprio? Cioè, in banca quanto hai? Niente. I debiti, no? Debiti nessuno. Debiti nessuno. Però proprio non riesci ad arrivare a fine mese. Come campi? Come magni? Eh, mia moglie mi cucina la pasta fatta in casa. Ah. E dunque, questo appello per chi è? Cioè, ho sentito che tua moglie chiede aiuto a Berlusconi, addirittura? Sì. Eh, come mai proprio a Berlusconi? Perché sono molto amico del figlio di Silvio. Ah, di Pia Silvio. Molto bene, molto bene. E tu dici che ti può dare una mano a Berlusconi? Sicuramente. Ma che vorresti da Berlusconi? No, no, mi dà anche un programma televisivo con Barbara D'Urso. Ma quando? Dura un'ora e mezza, mi pare. Ah, domenica dici, domenica live. Sì. Ti invita lì e intanto ti dà qualche euro, diciamo, di rimborso, diciamo, no? No. In ordine, di che cosa sei malato? Perché ti ho visto veramente male in quel filmato. Sei malato di cuore? Di che cosa sei malato? Sono malato di cuore. Di cuore. Cioè, hai problemi? Non riesco a respirare. Ah, proprio grandi difficoltà di... E come fai a fare programma in televisione? Sei ospite, diciamo. Vai ospite. Sì, ma riesco anche a fare i concerti, eh? E come? Andi, spero di morire sul palco. Addirittura. Beh, speriamo di non morire. Ma però questa qua è una cosa che molte persone... È interessante questa cosa. Cioè, tu la cosa che speri in realtà è crepare sul palco, diciamola tutta. Sì, la chitarra la suono ancora in maniera velocissima. Ma da quanto tempo hai che mi fai in concerto, però? No, l'ho fatto recentemente. Senti, una cosa. Ma io voglio capire una cosa. Ma ancora ce l'hai la voce? Cioè, la voce. Facci sentire un po' la voce. Tirati un po' su. Facci sentire un po' la voce forte di Richard Beck. Fermo! Ma che è successo? Fermo! Ma che è successo? Scusa, amico mio, ma tu sei un leone, stai... Ma non c'hai problemi cardiocircolatori, scusa, Richard? Sì. Ho capito, però riesce... Come sì? Hai fatto un boato, e poi dici sì, tranquillamente. Hai fatto un boato pazzesco. Si sono spaccate qua, mi sta chiamando Radio 24, la Confindustria, si sono spaccati i vetri della Confindustria qui. Sei spettacolare. Ancora c'hai una forza pazzesca, dirlo a tutti. C'ho una forza incredibile dentro di me, incredibile, altro che... Io t'ho visto malissimo in quel filmato, mi confermi che sei un leone in realtà, o no? Oh! Il fatto è questo. Sì, dimmi. Il fatto è questo, sentiamo, va bene. Che praticamente sono la forza di un leone. Eh, appunto. Eh, questo si capisce. Però sono malato di cuore. Eh, lo so, però mi capisco, ti fanno male pure queste urla, no? Ma che si urla così, ragazzi? Ma è incredibile. Ma dice che le cure costano troppo, no? Cioè... Sì, le cure non riesco ad affrontarle, proprio. Quali cure? Cioè, di che cure hai bisogno? Di che medicina hai bisogno? Eh, la lista delle medicine. La lista? La lista è solo, eh. Sì, più la lista, sì. Boh! Francamente... No, aspetta, vediamo la lista. Uno che fa un urlo così... No, però... Sì, ho capito, però, ragazzi... Ma è incredibile. Comunque... Sta male. Boh... Beh, non ci crede. No, lui non ci crede. No, per carità. Io ci credo, io ci credo, io ci credo. Sì, ma uno che fa un urlo così, secondo me... Comunque, Deno, trova super... Senti un po', ma ho visto che fumi, riesci... Il medico ti dice che puoi fumare? Io fumo quanto mi pare. Faccio quello che mi pare. Io mi ritengo un uomo completamente... completamente libero. Non me ne frega un cazzo... Bravo. Di quello che dicono i medici. Bravo, bravo, bravo. Dunque, tu, quante sigarette... Convertivato la lista delle medicine... Fammi la lista, sì. Fammi la lista. Allora, Aldactone... Sì. Cardioaspirina... Sì. Lassix... Sì. Lopresor... Sì. Pantrock... Sì. Tavor... Sì. Zestril... Sì. Alton... Sì. Quanto è tutto il conto totale? Eh, non lo so. Non lo sai? Più o meno? Più o meno. Di quanto avresti bisogno al mese per campare bene, diciamo, per stare decentemente? Cioè, così facciamo un po' il conto, chi ci ascolta magari può dare una mano. Eh... Direi 3.000 euro al mese, sì. 3.000 euro andrebbero bene, diciamo, no? Sì. 3.000 euro andrebbero bene. Senti una cosa, ma quante sigarette fumo al giorno? E che te frega? Ma è così, ma... Beh, insomma... Che te frega di quante sigarette fumo al giorno? No, t'ho visto con le mani che erano molto piene di nicotina, dunque sicuramente sarà un pacchetto, un pacchetto e mezzo, due addirittura. Ma giustamente, attenta, te frega un cazzo, vuoi morire sul palco? Che te frega di fumare? Eh, hai detto che vuoi morire sul palco? Eh, eh. Eh. Comunque, l'appello l'abbiamo fatto, l'appello l'abbiamo fatto, 3.000 euro al mese, io spero che... Ma che appello è, ragazzi? Ma che vuol dire fare l'appello di radio per dare dei soldi? Ma ragazzi... Ma sta messo male, hai visto? Dice che non arriva la fine... Ah sì? Scusa, in questo momento qua, tu, in questo momento qua, in banca, nella tua conto corrente, a meno che non c'è... Io in banca non ho niente, ti ho detto. E tua moglie? Non fa la rabbiata.